signorini miei sono vivo più o meno e dico più o meno perché veramente più o meno signori e benvenuti a un nuovo video che sono Emiglio e oggi finalmente siamo trovati non me la ricordo più come si fa l'intro signori e benvenuti a un nuovo video che sono Emiglio e oggi 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 voglio fare questo video un po così perché da tanto che non faccio dei video voglio spiegarvi due o tre cose quindi facciamo così un video veloce improvvisato un hoc parliamo velocissimo innanzitutto ci tengo a farvi gli auguri di buon natale buon anno eccetera eccetera non ho avuto modo comunque di farvelo in un video quindi ve li faccio adesso vi chiedo scusa anche per questo sono state le vacanze un po così raga all'insegna diciamo dell'influenza perché dopo natale dopo che ho fatto l'ultima diretta sono stato poco bene ho avuto ho avuto il caghetto quando stanno spruzzi c'è roba brutti c'è spruzzo brutto e quindi di conseguenza non sono riuscito a fare neanche delle dirette cosa che avrei voluto fare poi sono andato via sono andato via il 31 sono andato a valeggio sul mincio e ho fatto anche il blog è voluto un blog un po così però voglio voglio portarvelo anche perché sapete che io ci tengo niente sono tornato e quando sono tornato ho beccato il raffreddore qualche linea di febbre quindi non mi sono messo neanche lì a fare video e dirette per questo vi chiedo scusa domenica sarò in diretta perché si ricomincia esattamente dalla prossima settimana si ricomincia tutto come prima quindi video giovedì e dirette alla domenica e al mercoledì sul canale di memoria ghost ovviamente sarò anche in diretta ci saranno delle novità che adesso purtroppo non vi posso dire però quando sarà il momento vi dirò tutto quanto sia per quanto riguarda i video per quanto riguarda le dirette e sono contento vi racconto un attimo velocemente anche per le vacanze sono stato a valeggio come come ho detto bello come posto soprattutto borghetto un posto molto figo più che altro secondo me più un posto non proprio estivo da mezze stagioni però perché comunque c'era freddo sono dei ristoranti bellissimi e si mangia veramente bene quindi se avete l'occasione andateci poi sono stato per l'ultimo ad acquarnes alle terme è stato una roba micidiale pieno murato così di gente ma una roba bellissima va bene ragazzi non vi rubo altro tempo volevo fare questo video veloce soltanto per dirvi che ci sono non vi ho abbandonato io ci sono sono qua e niente noi ci vediamo nei prossimi giorni con video e dirette adesso le vacanze sono finite e ci rimettiamo sotto quindi come soltanto vi ricordo di iscrivervi al canale e lasciare un commento un mi piace iscrivetevi anche al canale facebook e instagram tutti i link qui sono nella descrizione noi signori ci vediamo alla prossima ciao